Le trame di febbraio di Una Vita rivelano che qualcuno segnerà per sempre il cuore di Celia Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Una Vita, la telenovela, che ha appena svelato l'uscita di scena di Maria Luisa Palacios. Gli ultimi spoiler ci svelano, che finalmente Celia si vendicherà del marito vedendosi con un altro uomo, mentre Huertas verrà licenziata. Anticipazioni Una Vita, Celia attratta dalla Drakruz. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda a febbraio su Canale 5, ci svelano, che il matrimonio tra Celia e Felipe Hermoso entrerà in profonda crisi dopo la scoperta del tradimento con Huertas. A proposito la signora Alvarez Hermoso cercherà di convincere la Lopez ad allontanarsi per sempre da suo marito, se non fosse colpita da un brutto svenimento dovuto allo stress. Dagli spoiler ufficiali in nostro possesso si apprende che la nobile donna sarà soccorsa da Cruz, un giovane di bell'aspetto, che vedremo diventare protagonista delle vicende di Acacias 38. Intanto il colonnello Valverde deciderà di dare un party in casa in occasione del suo benvenuto nel vecchio quartiere spagnolo. Possiamo anticipare che Cruz Bengoa sarà l'artefice di una rapina insieme a suo padre Julio e da Cocque, il suo fratellino, proprio in casa del padre di Elvira, infine la banda di ladruncoli prenderà in nostaggio i presenti tra cui Celia, che mostrerà una certa riconoscenza per lui. Una Vita spoiler febbraio, Celia bacia Cruz, Trini licenzia Huertas. Dalle anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda a febbraio su Canale 5, si apprende che la moglie di Felipe dimostrerà di trovare affetto verso il ladro, in segno di riconoscenza per averla salvata dal malessere sopraggiunto in strada. Dalle ultime news si avvince, che Celia pianterà addirittura in asso Felipe in occasione della cena del Santo Natale, per incontrare Cruz, qui la donna capirà che il giovane è diventato ladro non per scelta ma per necessità in quanto aveva perso la madre da piccolo. Inoltre la signora Alvarez Zermoso continuerà a restare vicino al Cruz, anche quando Bengoa Senior verrà preso dalle guardie civili, a questo punto Celia gli fornirà addirittura un alibi e dei soldi per fuggire all'estero. Possiamo anticipare che Celia bacerà addirittura Cruz sulla bocca per impedire che venga arrestato dalle guardie civili, mentre Huertas mediterà una diabolica vendetta nei suoi confronti visto che è stata piantata in asso da Felipe e licenziata da Trini. Infine l'ex serva dei palacios confesserà all'avvocato di aver visto sua moglie a passeggio con un giovane misterioso ai giardini del principe, come finirà? Per saperlo vi basterà continuare a leggere le nuove anticipazioni di Acacias 38, cliccando il tasto segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore. Grazie a tutti!